Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Ma è una vita che conterrà un messaggio politico più che occuparsi di dati, cifre e dati economici. Siamo all'inizio, all'aurora di una nuova legislatura europea. Vorrei invitare tutti coloro che avranno compiti di responsabilità per quanto riguarda i vertici delle istituzioni europee a concepire questa come una nuova legislatura rifondativa anche. Ma in particolar modo vorrei trasmettere questo messaggio. Si eviti di concepire l'Europa solo come un mercato economico, unico. Noi dobbiamo recuperare un alto tasso di politica in seno alla prospettiva europea. L'orizzonte che delimita il piano di azione di questo governo è ben chiaro. In quel contratto di governo a volerlo rileggere oggi con molta attenzione alla luce di quel che abbiamo fatto, di quello che stiamo per fare e quindi che faremo c'è il programma di riforme più cospico, più organico, più sistematico e direi anche ambizioso che è stato mai concepito negli ultimi decenni in Italia. Quando l'avremo realizzato sarò la persona più soddisfatta del mondo. E questo era il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Buonasera, 21.17 sempre in diretta con Focus. Ieri ascolti, non so, formidabili perché abbiamo parlato di residenza ai migranti, la questione dell'anagrafe ai migranti a Padova e poi il Gay Pride, le polemiche, è un dibattito vivacissimo, abbiamo fatto un botto di ascolti e quindi grazie molte per averci seguito. Fatelo anche stasera. Stasera parliamo di quello che sta accadendo tra il governo italiano e l'Europa. Il Presidente Conte, avete sentito, cerca di evitare la procedura di infrazione, ha mandato una lettera a Bruxelles, di questi tempi ancora si mandano le letterine, quando abbiamo grandi tecnologie molto sofisticate, sta di fatto che ha mandato la lettera e che non è detto che l'Europa scenda così a patti, anzi qualcuno dice ci sarà comunque questa procedura di infrazione perché i 2 miliardi di contenimento dei costi forse alla Commissione europea non bastano, non basta questo taglio e in ogni caso c'è polemica qui perché pare che questi 2 miliardi saranno ricavati dai tagli ai servizi, quindi all'istruzione, alla sanità, ai trasporti e quindi questo scatena ovviamente comprensibilmente la rabbia di una buona parte dei cittadini. Da questo partiamo e abbiamo messo nel titolo che in questa situazione di grande caos e di un'economia piuttosto disastrata serve l'autonomia, o autonomia o morte, questo è il nostro titolo di questa sera e oggi proprio parleremo dell'autonomia perché si sono fatti dei passi avanti. Vediamo la foto scattata oggi, oggi pomeriggio, Salvini e Zaia sorridenti dopo le notizie arrivate dal Ministro Stefani che ha detto abbiamo incardinato l'autonomia in Consiglio dei Ministri, cioè questo testo finalmente è entrato in Consiglio dei Ministri e adesso inizia la fase più operativa e più tecnica, quindi non è ancora finita ma insomma è un passo importante in avanti. Allora vi presento gli ospiti di questa puntata, Paola Durastante, dirigente pubblico e presidente delle donne venete di Treviso, buonasera. Buonasera, buonasera. Giovanni Battista Mestriner, bentornato, l'ex sindaco di Scorzè. Buonasera. Grazie molte. Alberto Villanova, buonasera Villanova. Buonasera, grazie. La Lega in Consiglio regionale, presidente della Commissione Cultura. Grazie molte. Francesco Potelli, economista, professore, bentornato stasera, ne avremo di carne al fuoco. Franco Vescovo, imprenditore, buonasera Vescovo, buonasera. E anche i sindacati, perché noi ospitiamo sempre tutte le categorie. Bruno Agostem, Breda, RSU, Electrolux, c'è un accordo molto importante di cui parleremo. Allora, io direi, Fabrizio, partiamo dall'autonomia, direi, in vista anche poi di un incontro domani a Ponte di Apriola con Trazai e Toninelli. Questa giornata sull'autonomia particolarmente importante, vi dicevo, vediamo il primo servizio proprio sulle novità. L'autonomia arriva in Consiglio dei Ministri perché fa bene all'Italia. Ce lo dice spesso però, l'autonomia arriva al prossimo Consiglio dei Ministri e sono passati molti mesi, quindi c'è un problema di accordo politico. Diciamo che penso che adesso siano tutti più convinti rispetto a qualche tempo fa. Parte da qui la svolta sull'autonomia del Veneto, dichiarazione rilasciata ieri sera che ha rafforzato l'incontro di questa mattina del Ministro per l'Autonomia Erika Stefani con il Premier Giuseppe Conte. Poco prima delle 13 il comunicato che sancisce come il tema si è incardinato verso il voto finale tra ministri prima che venga trasmesso alle Camere, sottolineando però che ci sarà un ulteriore passaggio nelle commissioni parlamentari. E questo sarà da un lato rafforza la serietà del percorso, dall'altro anticipa un ulteriore allungamento dei tempi. Comunque sia, per il governatore dei Veneti è comunque una gran bella notizia. Bella notizia quella che c'è da ministro Stefani a seguito dell'incontro del Presidente del Consiglio Conte. Incardinare il provvedimento in Consiglio dei Ministri significa far uscire poi un testo del famoso accordo, dell'intesa del contratto che si dovrà firmare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione del Veneto. Ma bisogna tenere la guardia alta, sottolineano molti parlamentari a Roma, perché se ufficialmente tutto procede senza scossoni, in realtà la partita dell'autonomia è all'interno di un continuo scambio all'interno della maggioranza. E non sarebbe un caso se ieri sera la situazione sia sbloccata quando la Lega ha annunciato che avrebbe ritirato l'emendamento sul passaggio delle competenze dei fondi per lo sviluppo del Ministero per il Sud alle Regioni, ovvero dal ministro Pentastellato alla maggioranza dei governatori leghisti. E ancora, sempre stando ai retroscena romani, in questa bilancia tra il dare e avere, l'autonomia si intreccia sul caso Taranto, con la Lega pronta a sostenere il piano di Maio, sempre più in difficoltà con gli ultimi sviluppi del decreto crescita. Tutti argomenti che tenderebbero ad eliminare i freni alle ruote del treno autonomista, voluto principalmente dai Veneti, e che ora aspettano solamente la firma. Grande lavoro e soprattutto il fatto che il provvedimento venga firmato e mandato in Parlamento sia un segno di grande rispetto nei confronti dei Veneti, in particolare al modo di tutti coloro che sono andati a votare il 22 ottobre 2017 per il referendum per l'autonomia del Veneto. Ora c'è da aspettarsi un percorso in discesa per questo cambio epocale dell'Italia? Per i parlamentari che abbiamo interpellato non ancora, ma del resto ci dicono voi siete per lo più di montagna e le scalate, magari irte di difficoltà, non vi spaventano. Servizio di Lucio Zanato e le montagne che non spaventano i Veneti, è un motto che vale anche per le Olimpiadi del 2026, vedete alle nostre spalle. Io sto con Cortina 2026, lunedì 24, lunedì prossimo a Lozano, un giorno cruciale perché il CIO deciderà tra le due candidature rimaste, Cortina Milano e Stoccolma. Le prospettive sono molto buone, incrociamo le dita e fate di tutto, ha chiesto anche il governatore per mandare sui social, tweet, post, insomma fate sentire la pressione di un popolo che vuole assolutamente i giochi invernali nella perla delle Dolomiti. Allora Alberto Villanova, partiamo io direi dall'autonomia. È una giornata importante, si è sbloccato qualcosa? Che cosa è successo? È una giornata sicuramente importante, a noi era già arrivata voce da Roma che qualcosa si stesse muovendo e effettivamente dopo quando abbiamo visto questa mattina il comunicato stampa del Ministro Stefani, abbiamo visto che le cose si stavano iniziando a muovere. Che dopo sia un percorso facile, questo no, questo io non credo che sarà mai facile, fino al giorno in cui vedrò approvato il provvedimento, quindi attribuita l'autonomia al Veneto e non sarà assolutamente tranquillo. Però diciamo che alcuni aspetti si stanno indirizzando verso quello che chiedevamo, in particolare rispetto a quello che è stato detto nel servizio, volevo puntualizzare un po' che l'iter rispetto a quelle che erano le previsioni che erano note fuori, soprattutto durante la campagna elettorale per le europee, si sta un po' snellendo, nel senso prima si prevedeva che il Parlamento potesse emendare la richiesta di autonomia. In realtà adesso quello che sembra l'iter che verrà portato avanti è quello di mandare in commissione parlamentare la preintesa che viene firmata dal Consiglio dei Ministri, questa preintesa tornerà per la firma tra governo e regione, dopodiché il Parlamento potrà votare solo o sì o no. Ah beh, questo è importante, quindi non potrà, diciamo, infilare le mani. Anche erano le richieste dei ministri dei 5 Stelle, adesso sembra che il percorso dell'autonomia abbia una via un po' più snella perché sicuramente è diverso farla arrivare nelle commissioni rispetto a farla arrivare in aula del Parlamento. E quindi questo è un qualcosa che ci incoraggia. La guardia va tenuta assolutamente alta, non va abbassata la pressione nei confronti dei nostri interlocutori di governo perché sappiamo che c'è qualche resistenza, l'abbiamo letto dai giornali anche oggi, insomma, il ministro Costa, il ministro Grido della Salute, della Sanità, il ministro Toninelli, sono i tre principali ministri che hanno alcune obiezioni. Però abbiamo visto che rispetto a qualche settimana fa queste obiezioni stanno diventando molto più blande. Dopo il voto in particolare. Dopo il voto sì, anche perché immagino che insomma il segnale dagli elettori si è arrivato abbastanza chiaro, forte e chiaro, soprattutto in Veneto, nelle regioni dove c'è stata questa richiesta di autonomia. E adesso anche certi argomenti come quello della secessione dei ricchi oppure italiani in serie A e in serie B abbiamo visto che sono argomenti che non sono più stati utilizzati. Probabilmente qualcuno ha ragionato sul fatto che questo tipo di argomenti non hanno fatto cambiare idea agli italiani, anzi. Senta, volevo chiedere, quella foto in cui Salvini e Zaglia oggi compaiono insieme, sono ridenti, è un po' una risposta alle dietrologie sugli scontri all'interno della Lega? Che poi in realtà ci sono stati e ci sono dei mal di pancia all'interno del carroccio, tra Salvini e Zaglia, insomma nei giorni scorsi perlomeno se ne è parlato molto. No, se ne si è parlato molto, questo sicuramente sì, ma secondo me se ci sono due persone tra le quali non ci sono mal di pancia sono proprio Salvini e Zaglia. Sono due persone che sono molto impegnate sul loro lavoro e per quello che sappiamo vanno molto d'accordo, sono molto lineati. Tant'è vero che anche il percorso dell'autonomia è stato portato avanti da due punte, quindi una a livello regionale e una a livello del governo. Poi che la Lega sia un partito abbastanza effervescente, questo lo sappiamo, è un partito dove non manca la dialettica, però secondo me a livello proprio di chi guida il partito questi problemi non ci sono. E penso che sia anche fisiologico in un momento in cui il partito sta cambiando, c'è questa trasformazione in un partito nazionale, e ci sia anche una trasformazione dal punto di vista del passaggio dei militanti da un partito all'altro, penso che sia anche normale che qualcuno abbia qualche perplessità, ma secondo me tornerà tutto. Quando arriverà l'autonomia di sicuro siamo tutti contenti. Certamente, allora se l'economia non funziona non deve funzionare anche la macchina dello Stato. Twitta l'onorevole Brunetta, siamo alle comiche finali, dice Brunetta, qualcuno spiega a Salvini Di Maio che nel 2020 Conte taglierà la spesa e aumenterà le tasse per bloccare l'IVA. Eh professore? I 2 miliardi che hanno proposto adesso nell'ultima letta fossero 2 miliardi accantonati, quindi non siano frutto di tagli in prospettiva. Certo che la manovra che si prospetta per il 2020 si parla di 35-45 miliardi a seconda della crescita che avremo. Adesso a crescita siamo a zero, la finanziaria è stata fatta con una crescita prevista a 1,4, c'è evidente che qualcosa non torna e quindi fa parte del gioco. Faccio un parallelo, non per fare una battuta. Sentire Conte, io ascoltavo Renzi nel 2015, le stesse cose, lo stesso modo di parlare, la stessa retorica. Renzi ha avuto la fortuna di quantità di Visin che gli ha permesso di dire che lui era bravo e che invece bravo non era, Salvini avrà la fortuna di avere quantità di Visin di Draghi. Quindi alla fine questo governo, come governo Renzi, verrà salvato da Draghi, dal quantità di Visin che permetterà, come oggi è successo, l'abbassamento dello spread, 2,35 da 2,80 a contare arrivato. Quindi torniamo al discorso di base, non cambia nulla, non cambia Salvini, non cambia Renzi e siamo sempre a punto da capo. Per fortuna c'è Draghi, questa è la realtà. Dove troveranno le risorse per la manovra? Che a lei discute che si tagliano i servizi, i trasporti, le istruzioni? Oddio, due sono le cose. O cresce il PIL o taglia l'aspetto, non ci sono alternative per mantenere quell'equilibrio. Non comunque per la procedura presunta. Si spera che la procedura... Ma anche perché lo scostamento di uno 0,07% quindi stiamo parlando... Noi tutti speriamo che non venga avviata la procedura. Ricordiamoci che anche il governo Renzi ha avuto la letterina. Perché qua si gioca sempre un po' a dimenticarsi. Dall'altra parte ci sono loro che sono sotto accusa adesso, secondo me per certe cose giustamente. Ma sembra che dall'altra parte sono tutti bravi. Ma Renzi, anche Padoan, ha avuto la sua bella letterina. Quando diceva Padoan stiamo riducendo il debito, invece il debito cresceva al doppio della velocità del PIL. Per cui quando loro hanno comprato questa auto usata, era un'auto usata ma era un'auto messa molto male. Evidentemente loro successivamente, secondo me, hanno fatto degli errori. Ma comunque è evidente che quanto ha stato lasciato il governo Renzi e Gentiloni era già sulla via della crisi. Loro hanno avuto la sfortuna di trovarci l'ultimo anno. Però se andiamo a vedere i dati, l'apporto deficit PIL, se lo andiamo a vedere negli ultimi 5-10 anni, comunque il 2,1 che sembra quello, il dato assestato di questo periodo, è comunque tra i minori rispetto a tutti gli altri. Ma sono d'accordo. È questa la narrazione che viene fatta in questo periodo dove sembra che i conti siano esplogli adesso. Ma no, però è cambiato il contesto. Quello che io non riesco a capire, io ti ripeto, so benissimo che ti riconosco un'onestà intellettuale, ma resta il fatto che il mondo è cambiato. Per fortuna sua, Renzi ha avuto un periodo in cui la domanda internazionale tirava, per cui le nostre esportazioni crescevano. Adesso la domanda internazionale è ferma, lo fanno 0,2-0,3, di conseguenza noi non riusciamo più a esportare e torniamo a punto di partenza. Gli errori che ha fatto Renzi e Gentiloni si ripercuotono su queste. L'esempio classico è venuto fuori, perché bisogna ricordare anche tutto, non bisogna sempre dare colpa. Io Savona, sapete benissimo, lo detesto, però nel 2018 finanziare il governo Gentiloni, per cui non certamente colpa loro, i consumi sono aumentati da 0,3, l'inflazione è l'1,2, quindi i consumi sono diminuiti da 0,9. Per cui loro che dicono di essere bravi, Gentiloni, hanno fatto diminuire i consumi. Sono cominciati a calare per la prima volta, un'altra volta, i consumi alimentari che erano calati nel 2011-2012. Quindi è evidente che il contesto economico precedente era molto problematico. Qual è stato l'errore che io vi contesto e ve lo contesto da tutta la vita? Nel momento in cui queste cose erano evidenti e la domanda internazionale stava calando, come diceva Savona, cresceremo del 1,3 o del 1,5 era una follia. E adesso, purtroppo, la realtà ci ha dimostrato che siamo feni perché la crescita è 0, e bisogna fare una manovra, l'IVA che avete ereditato, mica l'avete creato a voi l'IVA, c'è mai garabbiato, però all'IVA che abbiamo ereditato, anche voi l'avete ereditato a tutti, all'IVA che tutta l'Italia ha ereditato, si aggiunge anche la mancata, è mancata la città del 1,4. E questo aggrava i conti dell'Ostato. Su dove li troveranno? C'è la quota 100 che ci sta fussando, c'è il reddito di fornulagine che ci sta portando sotto. Quindi il reddito di fornulagine, quanto poco porti via i soldi, quota 100 che credo sia un dramma, perché un dramma? Perché svuotiamo ospedali, scuole, eccetera, di statali che sono i meno produttivi del mondo, perché lo statale italiano credo che sia dimostrato statisticamente, scientificamente quello che produce meno, boh, gli anticipiamo addirittura la possibilità di andare in pensione. Quando qualche governo precedente, che può essere visto bene, visto male, non facciamo i nomi perché diversamente si crea polemica, allungando i tempi di permanenza lavoro, aveva sanato parte delle situazioni di spesa corrente. Cioè c'era meno spesa corrente, che adesso sta aumentando in modo pauroso, c'è il debito pubblico, ho sentito un attimo fa che non sta aumentando, ma i dati, la matematica, non sono parole che stiamo dicendo, il debito pubblico... Non lo faremo del deficit. Il debito pubblico... Il debito pubblico cresce 2.400 euro al secondo. Sta aumentando, la spesa corrente sta aumentando, vogliamo fermarla, ho sentito un attimo fa il patrimoniale, ma io, come leggo io, i giornali leggiamo tutti, probabilmente ci sarà una tassazione, che dopo sia una tassazione sulle plus valenze, che sia una tassazione, diciamo, su tutto quello che è una tassazione finanziaria, o che sia una forte tassazione su quelle che sono le eredità. Non lo so, ma si sente parlare di questo. Ma non sono quelle che cambiano il bilancio. Allora, non cambiano perché, esatto, sono poche cose. Il problema qual è? Ma chi ne parla? Chi è che lo dice? Il problema lo dicono tutti i vostri. Ma tutti chi? Allora, basta leggere i giornali, basta sentire. La spesa pubblica sta aumentando, la spesa pubblica sta aumentando, e facciamo finta di non vederlo. Stiamo andando verso una situazione di indelitamento, stiamo andando verso una situazione di spesa corrente, stiamo andando verso una situazione che non parliamo mai di risparmi, parliamo di spesa. Mi permetta brevemente. Parliamo di spesa. Io sto parlando di matematica, sto parlando di numeri, sto parlando di politica che non mi interessa. E fa quello parlando di numeri? Sto parlando di numeri. Sto parlando di numeri. Cosa vogliamo fare? Cioè, i fanulaggi di continuare? Posso parlare di numeri? Vogliamo ancora continuare la quota 100? Allora, il bilancio dello Stato è circa 800 miliardi di euro, giusto? La spesa per quota 100 e per i livelli di cittadinanza è circa un miliardo e mezzo. Fanulaggi? Un miliardo e mezzo e un miliardo e mezzo. Quindi mi vuole dire che i 3 miliardi... Sono stati fatti a debito. Ma questo è un problema. Allora, quello che dice noi... No, ma per me è un secondo. Però arriviamo poi alla... Dobbiamo andare anche a... Allora, il fatto di sostenere il mercato interno, come che i consumi, lo puoi fare anche dando a dar comunque più disponibilità a chi non ha disponibilità. Ingeguitando chi? Ma, ancora di più... Tutte le manovre vengono fatte in deficit, ok? Ma abbiamo il detto pubblico più alto d'Europa? Sì, ma in Italia... Dobbiamo capirlo questo che ci porta... Qualsiasi manovra... Allora, se noi andiamo a vedere quelli che sono i dati economici degli ultimi anni, tutte le riforme sono state fatte in deficit, ma il deficit è molto superiore a questo. Perché era 2,5, 2,8 e compagnia. Ma c'era il PIL che cresceva. Ma c'era il problema... Che l'economia aveva una velocità superiore. E' un po' il discorso. Guardi, Savonale ha detto una di giusta. Ma qui ha detto, se noi vogliamo andare a sostenibilità, lasciamo a perdere il discorso dell'istituto. Non so, andiamo avanti, però. Quando lui ha detto, bisogna che il debito cresca meno del PIL. Noi siamo in una situazione inversa. Noi abbiamo, ma non da adesso, da Renzi, il debito che cresce più del PIL. Di conseguenza, come diceva giustamente il meditore, noi stiamo andando, lasciamo le ultime vostre, che io l'ho sempre giudicato disastrose, sono l'ultima goccia di un percorso che è stato fatto degli errori. Noi non possiamo pensare di essere in questa situazione per copa vostra. Ma no. Si, si può da un anno. Ma no. Ma no. Adesso si è a migliorare. Ma quanto possiate essere? Allora, scusate, dobbiamo andare avanti. Ma è 20 anni che va così. Siamo avanti. I profughi africani li trovi alle entrate dei supermercati per dire buongiorno. Io mi chiedo, sono partiti dall'Africa per dirmi buongiorno, che futuro avranno. Sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestinè. Sindaco, si può dire che un po' chi di spada ferisce, di spada perisce? Nel senso che noi, l'Italia diciamo, in questa fase è stata molto aggressiva con l'Europa, nella speranza che poi l'Europa cambiasse. Adesso siamo a Conte che va in Europa col cappello in mano a chiedere che questa procedura di infrazione non venga varata. Non è un problema né di cappello in mano né di rapporti di forza. Qui c'è un sistema che non funziona più, il sistema europeo, e ormai lo stanno dicendo tutti, non solo i sovranisti italiani. Il sistema non funziona perché si sono create delle regole rigide su un'economia invece estremamente mobile, su un'economia internazionale che sta cambiando mese per mese, con dei stravolgimenti incredibili che possono essere dietro l'angolo su tutti i nostri ragionamenti, perché la parte di ragionamenti che facciamo è su un quadro internazionale fermo, il quadro internazionale non è fermo. I rapporti per esempio di forza tra gli Stati Uniti e la Cina non sono rubette da poco, soprattutto con noi che in questi anni abbiamo puntato molto anche su quei mercati. Allora ci troveremo o potremo trovarci in situazioni comunque di difficoltà. Allora l'Europa non è d'utile, ha degli schemi, ha delle regole, ha delle impostazioni che nel chiuso di un laboratorio chimico dove ti rivia tutte le variabili e ti rimangono e lavori su due o tre variabili, il giochetto può funzionare. Oggi non funziona, ma non funziona non contro l'Italia, non funziona in generale per l'Europa, perché anche la situazione tedesca paradossalmente, lo abbiamo detto oggi i giornali, anche questo ultimamente non è meravigliosamente splendida, ci sono delle difficoltà enormi e vanno a colpire anche situazioni che nel mercato europeo, dentro il mercato europeo ci sono. Allora qui la questione è semplice, noi siamo in mezzo al guado, abbiamo da un lato una moneta ma non abbiamo uno Stato, abbiamo delle regole fisse ma non abbiamo un sistema politico che possa adeguare queste regole europee alle esigenze cambiate. Allora questa situazione determina il fatto che qui questo meccanismo esplode, esplode con l'Italia oggi, esploderà domani con qualche altro Stato, non importa, esplode, esplode perché una moneta prevede che dietro ci sia una politica e dietro non c'è una politica, c'è invece, ci sono invece Stati nazionali che si combattono tra loro in nome del loro interesse nazionale. Allora, vogliamo che ci sia una moneta unica, occorre ci sia una politica unica, popolare, democratica, decisa con delle elezioni, dove il voto di un italiano valga come quello di un greco o valga come quello di un tedesco, mentre oggi ci sono i tedeschi, i francesi che per X motivi i loro governi valgono di più e quello che loro decidono, riescono ad imporlo ad un'Europa asfitica, quindi c'è tutto da rivedere. In questo tutto da rivedere, adesso io voglio particolarmente bene al nostro Presidente del Consiglio Conte, ma a volte fa delle dichiarazioni, sembra di essere il Paese dei Meraviglie, ci dice ma comincerà la legislatura della rifondazione, all'inizio anno aveva detto questo sarà un anno memorabile, eccetera. Probabilmente è un certo ottimismo levantino che magari lui interpreta per ragioni sue e biografiche, però la realtà è che la sfida è forte, la sfida è importante. C'è un dato, io non mi firmerei invece ai numeri, perché i numeri, qua c'è una questione politica, quest'anno non è stato perso in vano, le misure criticate dal punto di vista economico, per carità, niente da dire, però hanno segnato una questione, dopo anni dove si erano finanziate le classi alte della società attraverso detassazioni sui rinvestimenti, attraverso tutta una serie di operazioni che hanno state fatte per far riprendere l'economia, eccetera, in quest'anno si sono guardate di più le classi più povere della società, quelle più svantaggiate. I provvedimenti possono essere stati particolarmente meravigliosi, sia quota 100 che reito di cittadinanza. Attenzione però ad avere l'atteggiamento snob di pensare che questi provvedimenti siano dei provvedimenti così fatti per i cittadini indegni di questo Paese. Non è così, perché guardate che un sistema politico, un sistema economico si regge nella stabilità, non si può lasciare indietro in situazioni di gravissima difficoltà, come è così, una parte importante della popolazione. Adesso c'è però un salto di qualità che questo governo deve fare, dopo aver pensato in quest'anno alle situazioni più difficili che dovevano essere affrontate in qualche modo, doveva essere dato il famoso segnale, non hanno risolto tutto, non c'è dubbio, i provvedimenti sono perfettibili, non c'è dubbio, ma dopo aver dato questo segnale, adesso deve essere il cambio di passo. L'autonomia significa capacità di dare più possibilità ai territori e adeguare le loro politiche all'esigenza dei cittadini, la flat tax significa dare più possibilità alla gente di produrre, di investire, di non avere lo Stato sempre sopra, se questo passasse anche attraverso la revisione dei costi di questo Stato, io mi faccio mica la testa, io ho fatto il sindaco nel mio comune, in dieci anni abbiamo tagliato 7 milioni di Euro di debito, abbiamo azzerato il debito del comune, un comunetto per carità, perché in Italia neanche tanto comunetto, perché siamo 19 mila abitanti, però avevamo 7 milioni di Euro di debito e senza grandi manovre fiscali siamo riusciti risparmiando a metterle via e quindi a ripagarle. Io non trovo scandaloso che si tagli anche la spesa pubblica, anzi lo troverai salutare, e da me come? Perché se io in nome del taglio vado a risparmiare sulla prestazione sanitaria data al poveretto, eh no, e guarda che qui allora no, quindi diventa di nuovo una questione sociale. Se invece il taglio è, guardiamo dove sono le rendite e ce ne sono, non tutti i dipendenti statali sono di fannulloni, tanti sono molto bravi, per esempio nella nostra sanità e vanno in pensione e non riusciamo a rimpiazzarli, quindi vanno via con 400 anche persone intelligenti, non solo di gran fannulloni. Però attenzione, se dobbiamo fare una revisione della spesa qua ci vuole capacità amministrativa. Ok, ok, no, stavo concluso. No, e per avere capacità amministrativa ci vogliono, scusate, ci vogliono delle balle. Certo, gli attributi. Cioè, e qua bisogna che ci sia una classe dirigente che prende in mano la situazione e dica, su questa situazione che c'è, benissimo, noi prendiamo in mano e cominciamo. Allora, questo governo riesce a far questo? Boh, non lo so. Vedremo. Non lo so. Allora, domande che gli ospiti si sono andati a firmare a sostegno del riconoscimento della lingua veneta, poi glielo chiederemo, eh, glielo chiederemo. Adesso vediamo invece un Vox sempre sull'autonomia, a sentire cosa ne pensano alcuni cittadini, vediamo. Secondo lei, allora Zaia, a questo punto per farsi sentire, per far valere l'opinione di tanti cittadini che hanno votato per l'autonomia, cosa dovrebbe fare? Eh, insistere, insistere, insistere. Eh, fatica con i 5 Stelle, molta fatica che portiamo a casa l'autonomia, guardi. Penso che sarà un'impresa ardua. Zaia penso che possa fare poco. Dovrebbe, più che sia Salvini, parlare chiaro con i 5 Stelle o se no interrompere tutto e basta. È inutile continuare in queste condizioni. Non si raggiunge questo scopo. Non c'è altro da fare. La cosa migliore, secondo me, è quella di assecondare quello che sono adesso le esigenze del governo, perché se mettiamo insieme altra carne sul fuoco, credo che poi la cosa possa essere non più governata bene. Battere i pugni sul tavolo. Non lo so, dovrebbe farsi ascoltare di più dal governo. Non so che anche io. In che modo? Non lo so, non ho la più palida idea. È una partita difficile. Esatto, una partita molto difficile. Se nessuno tiene conto anche del referendum che è stato fatto, evidentemente non ci siamo. Non ci siamo perché? Non ci siamo perché il popolo non è ascoltato. Allora, se il governo non ascolta neanche quello che fa, quello che il popolo dice, non ci siamo proprio. Il governo deve rispettare la volontà dei cittadini. Deve anche lui attendere a livello nazionale cosa verrà deciso, nel senso che da una parte è giusto che il verito abbia autonomia da un'altra. Bisogna anche che non perda qualche vantaggio il resto delle regioni italiane. Allora, di chi era servizio? Non ho sentito. Ah, Nicola Marcato, Nicola Marcato con interviste cittadine. Allora, prima di sentire dell'Electrolux con Bruno Westenbredas, lei cosa ne pensa della situazione di questo caos politico e istituzionale in questo momento, davvero una situazione difficile, in rapporto a quella che è la situazione delle imprese, no? Brenda? No, pensavo che se prima parlasse dell'Electrolux pensavo parlasse così. No, 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 era per... Il caos. Io preferirei parlare di questioni concrete perché io penso che un paese quando ha difficoltà a creare aspettative positive ha bisogno, secondo me, di finanziare delle attività, di essere proattivo e di accompagnare l'economia. Lo fa in parte. Le imprese oggi che investono in automazione, innovazione tecnologica ricevono più del 50% di quanto investono in aiuti di Stato. Ecco, sembra però che su questo, ecco, uno dei tagli, ecco, potrebbe essere quegli incentivi alle queste. In verità, in verità, su questo ci sono posizioni diverse. Ho letto impegni precisi assunti dai ministri di questo governo, di tutti i colori, dei due colori che ci sono, che hanno detto che rinnoveranno questi investimenti. È uno dei problemi. Se tu tagli ciò che permette al paese di stare al passo con i cambiamenti di innovazione, ti poni un problema di prospettiva. Io la vedo così. E c'è un controaltare, perché l'innovazione tecnologica, che se ne dica, è vero che produce un mutamento dal punto di vista delle professionalità che servono all'interno delle imprese, ma riduce complessivamente il lavoro disponibile. ciò che fanno le macchine, e soprattutto oggi questo cambiamento che non è solo di automazione, che questa è da anni che c'è, ma è un'automazione che produce, diciamo così, intelligenza, ragiona in qualche misura e trasforma. Questi aspetti vanno collegati su cosa si fa fare alla gente. perché se tu espelli complessivamente forza lavoro, che poi la espelli qui o da un'altra parte cambia poco, comunque riduci il reddito disponibile complessivo, perché se io non lavoro non posso avere reddito o se lavoro meno avrò minore reddito, questo pone un problema al paese di come lo affronti. La visione che proviamo a dare è quella di provare a contenere l'orario di lavoro e ridistribuire il lavoro che c'è. Cioè se l'automazione e l'evoluzione della produzione degli interventi che si fanno, gli investimenti che le imprese fanno per arrivare a stare sul mercato, producono questo fenomeno, noi dobbiamo trovare una risposta come società. Se non lo facciamo, tutte le chiacchiere che qui si fanno, ed è giusto farle, hanno un problema che se la gente non ha le risorse, le persone non spendono, se non spendono l'economia non gira ed essendo che noi siamo uno Stato basato sul fatto che funziona se circola l'economia, il problema si pone. non siamo un Stato né socialista né teologico, siamo uno Stato di economia con dei controaltari di intervento dello Stato per indirizzare l'economia, uno è quello appunto di quali incentivi io favorisco, cosa favorisco per stare al passo, noi abbiamo scelto di rimanere una potenza, mettiamola così, sul piano dell'industria produttiva e lo siamo, il rimanere, il termine è così, siamo la seconda per adesso, però siamo la seconda appunto perché c'è anche un accompagnamento e un intervento del Stato perché abbiamo imprese piccole con poche possibilità di finanziamento. Noi siamo uno Stato che invecchia, che è invecchiato e si calcola, oggi c'erano i dati dell'Istat, tra 50 anni 6 milioni di attivi scompariranno, per cui sarà un paese senza spina d'orso. Su questo punto preciso, ne parleremo poi con se, parleremo dell'Electrus, ma su questo punto preciso c'è una contraddizione che sento anche qui questa sera, che si dite quota 100 buttati i soldi, noi abbiamo, mi trovo, io lavoro in un'impresa che ha bisogno di far uscire i lavoratori che non hanno 60 anni perché affaticati dai ritmi di lavoro che si sono nel tempo aumentati perché l'impresa ha bisogno, diciamo così, di far produttività, per far produttività ti chiede di lavorare di più, corri dietro a questo ritmo, tu ti usuri e non hai più la forza di lavorare quando ne avevi 20 o 30. Che fa l'impresa? Finanzia l'uscita, una grande impresa se lo può permettere, incentiva il fatto che le persone più avanti con gli anni e meno in salute se ne vadano, pagate, cercano di farli agganciare la pensione, lo Stato fa ragionamenti di rintrodurre sotto altre forme il prepensionamento perché nelle imprese tenere persone che non hanno più la forza o la brillantezza mentale di star dietro ai cambiamenti, hanno bisogno di trovare una valvola di sfogo e quindi cosa propongono? L'uscita non a quota 100, prima, poi si lamentano perché si fa quota 100, si mettono d'accordo perché tu non puoi avere questo e quello e non puoi neanche dare un calcio alle persone e lasciarle per strada perché se le lasci per strada tanneggi l'economia, non hanno reddito e se non hanno reddito non funziona la macchina. Allora, io non voglio contraddire, non mi permetterei, sono qua per parlare, invitato dal direttore, però dico una cosa molto semplice, riferito al primo ragionamento che facevi. oggi il Veneto, credo, oggi, cioè dal primo gennaio ad oggi, abbia esportato o abbia un trend di esportazione più 3% rispetto all'anno scorso. Il Veneto esporta 64 miliardi, è vero che ci sono dei finanziamenti, è vero che parte della tecnologia è stata finanziata, però i risultati sono quelli che ho detto adesso, 64 milioni di esportazione, parlo del Veneto, io parlerei volentieri d'Italia perché mi sento italiano, mi sento europeo, ma parlo del Veneto non per un fatto di campanilismo che non mi interessa, perché siamo una trasmissione che guarda puntualmente anche il Veneto e dico guarda che questo è il dato, se questo è il dato il primo ragionamento secondo me viene un po' meno, e cioè quale primo ragionamento? Quello di dire troppo finanziamento pubblico, a volte per l'innovazione ci vuole. Secondo, è altrettanto vero, e chiudo direttore, secondo è altrettanto vero che fa paura la tecnologia dal punto di vista occupazionale, però da 27 anni a questa parte, dal primo convegno che è stato fatto a livello europeo, no, la preoccupazione è venuta meno, perché è dimostrato statisticamente, sono d'accordo che psicologicamente anch'io non la vedo così, qui, cioè che potrebbe venire meno la forza lavoro, però finora attenzione che la tecnologia o l'automazione non ha portato a un minore occupazione, ha portato a una diversa occupazione, che per il momento però l'occupazione ha retto, e l'occupazione non è venuta meno per l'aumento della tecnologia, dell'automazione e delle tecnologie che giorno dopo giorno crescono. Io guarderei che questo è un dato. Non c'è più la vecchia catena di montaggio. Esatto, però si sono cambiati gli modi di lavorare. L'automazione è stata contraddita, sto parlando con tutto il rispetto che ho del lavoro e delle persone che lavorano, perché senza le persone che lavorano nessun paese può andare avanti, non è che perché qualcuno è a casa, qualcun altro è contento. Però l'attenzione è che la situazione per fortuna è ancora questa. Sovranità monetaria per uno Stato, una nazione, un popolo vuol dire finanziare se questo zero, indipendenza, unica soluzione, viva San Marco. Vediamo prima di andare da Paola Durastante, vediamo un servizio sull'incontro che c'è stato tra Luca Zaia e il ministro Toninelli. L'incontro ufficialmente era stato convocato sul Mose e solo di Mose nelle note ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si parla. Chi si aspettava dal vertice romano tra il ministro Toninelli e il presidente Zaia anche qualcosa sulle grandi navi a Venezia dovrà attendere. Zaia e Toninelli si sono incontrati al termine di settimane di polemiche e tensioni che accompagnano il dibattito sul futuro della croceristica in Laguna dopo il disastro sfiorato il 2 giugno al canale della Giudecca. Il Mose non è comunque un argomento da poco, ma si opera dalla storia dir poco travagliata, non ancora terminata e la cui posa della prima pietra si perde nel lontano 2003. E in questo ambito il Ministero ha definito positivo il primo incontro per la designazione del commissario straordinario che dovrà occuparsi del suo completamento. Toninelli e Zaia si rivedranno la settimana prossima con una rosa ristretta di nomi che entrambi contribuiranno a comporre, a partire dalla quale verrà poi selezionata la figura prescelta. Così come a giorni sarà insediato un tavolo con il di Castero di Portapia, la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione per la scrittura del decreto che condurrà la designazione del commissario. È estremamente probabile che, come peraltro aveva ipotizzato prima dell'incontro lo stesso Zaia, la questione Grandinavi sia stata perlomeno accennata, ma qui le posizioni tra Ministero, Regione e Comune di Venezia appaiono meno vicine ad un accordo divise tra le ipotesi di deviazioni a Chioggia o a Marghera, posizioni che meriteranno più di un confronto prima di arrivare ad una sintesi in un ambito in cui l'accordo è solo sul punto di partenza, basta passaggi a San Marco e alla Giudecca. L'unico punto condiviso è quello, dopodiché sulle grandi navi c'è un grosso scontro, come sapete tante soluzioni ancora alle viste, Toninelli che gira in elicottero e poi va a vedere e vuole portarle a Chioggia. Allora Paolo Durastante, lei rappresenta, diciamo Presidente delle donne venete di Treviso? Sì, la mia associazione è di donne di Treviso, donne venete di Treviso che faccio parte da 20 anni e ho sostituito da poco la Presidente storica Silvana Morena, che lei è la Presidente delle donne padane nazionali, quindi io sono una parte delle donne padane. Non è Veneta? Non sono Veneta, sono 40 anni che so, vivo nel Veneto, però io ci vivo bene perché è una gran bellissima regione, ho diretto anche degli uffici in Abruzzo, quindi so anche vivere in una regione un po' più diversa. Come valuta questa situazione? Anche rispetto alla politica locale, no? Sull'autonomia desidera sapere qualcosa? Sì, sull'autonomia. Io conosco bene anche la Ministra Stefani, quindi so Stefani, so che è molto determinata e molto decisa, quindi mi fa piacere questo perché egoisticamente io vivo in una bellissima regione, questa è una regione che, scusatemi, siamo un po' acciusi, come diceva la Fornera al suo tempo, perché siamo ricchi, abbiamo una regione ricca, una regione che ha i servizi ottimi, sia sulla sanità, che sono quelli importanti, i trasporti, però scendendo un po' in Abruzzo si sente molto la differenza e quindi io penso che gestirsi l'autonomia in Abruzzo sia un po' un po' difficilotto, mentre il Veneto è preparato. Certo che le 23 materie da doversi ereditare, adesso ne abbiamo 5, 8, non so, sono abbastanza complicate, anche perché le materie vogliono anche una struttura e vogliono anche i soldi da doversi gestire, quindi non so quanto questo, sono curiosa di vedere com'è e che sarà questa autonomia. Mi è rimasto un po' impresso Boccia, quando il Presidente Boccia di Confindustria che l'altro anno nell'assemblea degli industriali disse al Ministro, guardi che non tutti i presidenti delle regioni sono come Zaia e ci sono alcune materie, no però ci sono alcune materie che sono piuttosto difficili da dover poi contrattare con quello della Puglia o quello della… Ma la soluzione è semplice, abbiamo solo di Zaia e visto che è bravo, diamo l'autonomia solo al Veneto e abbiamo risolto il problema. Eh ma infatti così sarà molto probabilmente, perché non mi sembra che gli altri ne facciano questa grande. Cioè non è che deve fare la battaglia per gli altri, uno non la vuole l'autonomia e si tiene Roma che va via a decidere quanti brioche prendono la mattina. Sì, sì. E quindi io sono curiosa di vedere, certo però parlo anche come dirigente perché purtroppo sono anche da questa parte e spero di andare con quota 100 il più presto possibile che sono stanca. Beh sicuramente le mancheranno 50 anni. No caro, ma ne mancano pochi, ma io vorrei andare tranquillamente anche in salute, insomma perché voi non vi rendete conto che cosa significa fare un dirigente nello Stato, insomma ne vedi di tutto e di più. Diceva il sindaco del taglio delle spese, io dicevo così, dico guarda vedo tante duplicazioni di funzione. Quindi se ci fosse magari ecco una regia su questo di come gestirsi proprio lo Stato, di come riformulare le competenze dentro lo Stato, questo sì si aiuterebbe molto tutte queste spese inutili che noi siamo costretti a fare in sostanza. E poi per il debito pubblico io sono d'accordo, forse controporrente, a fare in modo che si cancelli, si abbassi questo debito pubblico, è possibile che soltanto Prodi sia riuscito a farlo una volta e noi non riusciamo ad abbassare ancora. Noi abbiamo avviato la più grande campagna di privatizzazione dopo la Thatcher, ha venduto tutto quello che c'era da vendere. Purtroppo l'ha venduto dagli amici, quindi non abbiamo venduto tanti soldi. Prodi aveva cercato a vendere, adesso cosa vendiamo? Ma guarda, io sarò, allora, vendiamoci anche il Colosseo, però basta da finire questa storia che noi dobbiamo andare col cappello in mano, ci trattano male in quell'Europa, i soliti francesi, i soliti tedeschi di cui io non è che ami proprio così tanto. Sarebbe anche ora che noi mettiamo mano finalmente a questa storia, a questo debito pubblico, quindi se si tratta di pagare in tasse, però al momento lo dobbiamo pagare tutti, mica soltanto i fessacchiotti come me che pagano con il loro stipendio al 40% delle tasse. Quindi vabbè, mi scusate il mio, perché poi ho tutti i vari... Allora va bene, va bene. ...e varie cose. Allora facciamo come in America, chi evade va in galera, bastano le carceri italiane. L'italiana oggi di Maio ha detto che uno dei punti da raggiungere è quello proprio dell'evasione fiscale, no? Eh. Villanova. Sì, dopo... Sulla evasione fiscale, ogni volta si parla del Veneto come un... Quindi, la solita narrazione, il Veneto è una delle regioni dove si va di più, in realtà dopo si guardano le statistiche, il Veneto è la seconda regione per, diciamo... 17,4 contro, insieme alla Lombardia siamo i paesi che... Le regioni che percentualmente vada in meno. Esatto. E' chiaro, le vadi su un PIR molto più alto. E' chiaro, però se si va a vedere... Quindi che vada o meno, esatto. E' vero, soprattutto in nord-est, l'area del nord-est è l'area che vada in meno in Italia. Dopo, diciamo, sono regioni che vada in meno in Italia. Sì, soprattutto la Calabria, Sicilia, Calabria, quella zona lì. Però, guarda caso, una narrazione che passa sempre nel medio nazionale è che i Veneti sono un popolo di evasione, cosa che non è assolutamente vera. Poi bisogna vedere anche, perché per quello che riguarda l'evasione ci sono sempre delle grandi proiezioni, no? Poi se andiamo a vedere quelle che sono le stime dell'Agenzia delle Entrate, di quello che riesce a introdettare ogni anno con l'evasione, sono molto più basse rispetto a quello che viene percepito. Quindi si dice sempre che bisogna aumentare la lotta all'evasione, però dopo alla fine quello che si riesce effettivamente ad avere è poca cosa. Poi bisogna vedere che effettivamente ci sono delle situazioni dove si va magari a contestare al panettiere che non batte lo scontrino e dopo però ci trovano dei miliardi che vanno all'estero, miliardi di euro che vanno all'estero e riescono a rientrare grazie agli scudi fiscali. Ci sono delle situazioni abbastanza contorte, però posso tornare brevemente sull'autonomia. Sentivo la signora che diceva chiedere 23 materie, dopo bisogna saperle gestire, ma noi ci assumiamo questa responsabilità di chiederle, chiediamo che ci vengano dati i soldi e la responsabilità cosa vuol dire? Che noi diciamo, Stato tu spendevi questo per dare le 23 materie, tu lascia lo stesso importo per i primi anni a noi veneti, noi veneti con quei soldi riusciamo a fare meglio, nel senso che riusciamo a dare i servizi che davi tu prima a Stato, riusciamo anche a risparmiare e con quei risparmi riusciamo a incentivare gli investimenti e fare partire l'economia. Tutto quello che arriva di extragetto, cioè quell'economia in più che si crea, una piccola parte vogliamo anche tenercela, tenercela per poter incentivare l'economia veneta, questa è la richiesta di autonomia che stiamo facendo allo Stato, è prevista dalla Costituzione, se le altre regioni si sentono in imbarazzo, non sono sicure di riuscire a farcela, fanno meno di chiederla, adesso ci sono 12 regioni che hanno fatto una richiesta di autonomia, il bello di questa parte di Costituzione cosa dice? Che non tutte le regioni devono chiedere per forza le 23 materie, ognuno chiede quello che si sente, l'Emilia Romagna ha fatto una richiesta molto più limitata rispetto al Veneto, la Campania idem, altre regioni ancora meno, però noi ci sentiamo in diritto, visto che lo prevede la Costituzione, di chiedere tutto quello che è previsto dalla Carta Costituzionale, adesso il Parlamento, secondo me, visto che c'è stato un referendum con una larghissima maggioranza, con un quorum raggiunto, 2 milioni e 328 mila persone che sono andate a votare a favore di questa autonomia, il Parlamento adesso deve trovare, logicamente è difficile perché è la prima volta che si applica una riforma del genere, che può essere una riforma epocare che finalmente può cambiare anche la struttura di questo Paese, perché finalmente si può dare, come dicevo prima, responsabilità ai territori, toglierlo dallo Stato e portare più vicino al cittadino, responsabilità vuol dire amministrare con accortezza i fondi, vuol dire avere quella che è l'attenzione del padre di famiglia perché le cose vadano bene, perché si usino bene i soldi, quello che lo Stato ha dimostrato non negli ultimi anni, ma da sempre di non riuscire a fare, questa è l'autonomia e quando sento parlare di secessione dei ricchi, serie A e serie B, come dicevo prima, vorrei dire che la serie A e la serie B, oppure la situazione disastrosa, lo Stato è già diviso in due, perché di fatto è già diviso in due, è arrivato senza le autonomie regionali, il Sud è in questa situazione senza le autonomie regionali, la sanità della Campania che è disastrosa, della Calabria dove non si chiudono i bilanci, è in questa situazione senza l'autonomia regionale del Veneto, allora cosa vuol dire? Vuol dire che avviciniamo i territori per chi sa fare e magari quelle che sono le buone pratiche che vengono portate avanti in Veneto, si possono anche trasferire il resto d'Italia, con calma magari, con calma, perché ci vuole anche la volontà di portarle avanti, non so se… Non si fa se trasferire mai in Veneto… Però noi intanto ci portiamo a casa queste competenze e le gestiamo, e dopo se gli altri vogliono imparare è bene, però intanto noi portiamo a casa per quello che è un risultato per il Veneto. Allora, gli unici che hanno disatteso le aspettative, affamato e tolto diritti al popolo italiano sono i comunisti italiani ed europei, ha vinto alle elezioni europee un seggio, Alessandra Moretti, ex consigliere regionale, e adesso da europarlamentare propone che quello che era un po' il suo avversario in lista, cioè Achille Variati, diventi, si candidi a presidente della regione del Veneto alle prossime elezioni. Vediamo. Le prossime elezioni del 2020 saranno una sfida molto difficile e impegnativa per il centro-sinistra e il Partito Democratico, il quale si confronterà a partire dai circoli, dai territori, nella segreteria, su chi potrà portare avanti questa battaglia. Credo che tra i nomi e le personalità da individuare quella di Achille Variati sia una tra le più autorevoli. Achille Variati in campo dal 1984, ha svolto più volte ebbene la funzione di sindaco, è stato consigliere regionale, presidente delle province d'Italia. Ecco, credo che sia anche una persona che conosce bene il territorio e che conosce bene le problematiche da sottoporre in una campagna elettorale così impegnativa. Penso per esempio all'autonomia. È vero che oggi è stata incardinata, ma penso che proceda troppo lentamente rispetto agli annunci che lo stesso governatore aveva fatto. E poi abbiamo di fronte un governo, quello giallo-verde, che inchioda il Paese sulle beghe interne, sulle liti tra Di Maio e Salvini, anche e soprattutto in termini di sviluppo economico e sviluppo infrastrutturali. Non dimentichiamoci che in Italia sono bloccati oltre 600 cantieri che impediscono al nostro Paese di essere competitivo anche a livello europeo. Ecco che allora il Partito Democratico e magari con Achille e Variati potrebbe essere quel partito, quello schieramento in grado di mettere seriamente in difficoltà il governatore Zaia. Allora, Mestre Iner, cosa ne pensa di questa istemerata dell'armore? È un esponente politico veramente interessante, intelligente, capace, una veramente che rappresenta il territorio, che ci vuole tanto bene. Però, adesso arriva il però, adesso arriva il però. No, non è il però, è che siamo tanto generosi. Avere coltivato una stella della politica che per la prima parte della sua vita poveretta era reclusa in quel di Vicenza e adesso è diventata una star internazionale, addirittura in Parlamento europeo e credo sia comunque una grande opportunità per lei, sicuramente molto meno per noi. Allora, adesso, al di là dell'ironia, è una delle esponenti politici più inqualificabili che io trovi, una persona che non ha mai una proposta vera, fa sempre il ribatto sugli altri, addirittura adesso sembra critica il governo perché è troppo lento sull'autonomia e lei l'autonomia non l'ha mai voluta, cioè è inqualificabile, è totalmente inqualificabile. Io guardi, faccio una dichiarazione di voto, io preferisco variati a lei e se fossi stato uno del Partito Democratico avrei votato mille volte variati rispetto a mandare in Europa una persona del genere che, voglio dire, è sempre stata inqualificabile. si occupi delle tendine ai cimiteri, perché di questo lei è capace, di questo lei è persona molto intelligente e capace, si occupi di mettere le tendine nei nostri cimiteri e nella proposta che aveva fatto per nascondere i simboli religiosi. Più in là di là, io credo che una persona del genere non possa andare. Allora, i leghisti sono come i comunisti anni 60, allora la felicità era Mosca con San Nikita Khrushchev, oggi Pirla, San Matteo, insomma, qui è a tribunale, una aperta e si può dire qualsiasi cosa senza problemi dall'una e dall'altra parte. Noi li diamo tutti e sperando che nel loro complesso gli sms siano anche equilibrati, insomma, che ciascuno possa dire la propria. Buongiorno, volevo intervenire. Due cose, la prima sull'evasione fiscale, non dimentichiamo, parte il fatto, una battuta ai Montanelli anni 70 quando disse, quando arriva la finanziaria due mesi prima cominciano sempre a parlare dell'evasione fiscale per giustificare la manovra finanziaria, Montanelli anni 70, 2019, siamo appunto da capo. Per quanto riguarda l'evasione fiscale non va dimenticato, cito solo le 24 ore, non conti miei, che l'evasione sia quantificata in 198 miliardi, dei quali il 48% è attribuibile alla criminalità organizzata, perché forse molti non se lo ricordano, per una normativa europea da un paio d'anni nel PIL vengono calcolati, ovviamente a spanne, anche gli introiti della criminalità organizzata. Quindi metà di quei 198 miliardi sono frutto della droga, della prostituzione, delle rapine, quindi non sono attribuibili ai cittadini che lavorano e che magari non emettono lo scontrino. Punto uno, il 18% è attribuibile alla città di capitale, quindi che portano le varie sedi nelle varie paradisi fiscali o comunque dove trovano una fiscalità maggiormente favorevole. Per quanto riguarda invece il discorso che faceva Austin Breda, è vero, la digitalizzazione della produzione è un fenomeno inevitabile, che sta portando, perché l'obiettivo è quello di ridurre la concentrazione in mano d'opera per milioni di fatturato, che è, il settore industriale ancora adesso è quello che assicura la maggior concentrazione ed è un bene. Io, dal mio punto di vista, dico, ma allora quale dovrebbe essere la politica di un paese? Quella di attirare maggiormente imprese industriali che venissero a aprire i loro cicli produttivi all'interno del nostro territorio, magari quello Veneto, che anche se con una minore concentrazione in mano d'opera assicurerebbero una maggiore occupazione. Questo non lo dico perché è così. Porto due esempi. Allora, Apple va via dalla Cina. È uno degli aspetti nuovi che la guerra dei dazi sta mettendo, si chiama il supply chain, cioè le aziende stanno cominciando a pensare che forse come venivano via dalla Cina e fare le produzioni nei mercati dove hanno maggior sbocco perché se ci fosse una tassazione, un dazio dai prodotti cinesi, Apple sarebbe messa a mano. Ci sono molte aziende che stanno riportando le produzioni nei paesi natali. Chi in Vietnam gioca sul fattore del basso costo della Manopera? Chi invece sta tornando in Germania e negli Stati Uniti? Sì, è stata una decisione politica negli Stati Uniti per le TAMP. Certo, ma io sto dicendo... Trump ha messo i dazi sulle aziende americane che producevano le... Soprattutto Apple lo sta facendo in prospettiva perché le aziende... Industria automobilistica americana? Esatto, sto dicendo questo. Se le opportunità politiche di questa guerra cinese tra Cina e Stati Uniti dà dell'opportunità anche per riportare le produzioni, tanto è vero che certi stati degli Stati Uniti, stati dello Stato federale degli Stati Uniti, stanno attuando delle nuove politiche di fiscalità e vantaggio per attirare queste nuove produzioni perché anche con la digitalizzazione... Professore, ma lei ha ragione, ma hai idea oggi fare imprese in questo paese? Cosa significa? Non dal punto di vista fiscale, non dal punto di vista né fiscale né economico. Solo dal punto di vista... Burocrazia. Esatto, siamo d'accordo. Chi vuole che venne? Resta... Chi viene qua? Allora, torniamo appunto da capo. Il governo Renzi fece l'investable compact che aveva messo come elemento distintivo la non-retoratività fiscale. Per cui, cosa vuol dire? Se io vado a investire in un paese, dopo due anni mi cambia le normative fiscali e tutto il mio investimento va completamente, deve essere ricalcolato. Sapendolo, cosa hanno fatto? Mettiamo solo per gli investimenti superiori ai 500 milioni. Quindi, tagliando fuori completamente le PMI, una riedizione di un investment compact nel quale, per attirare gli investimenti, fosse inserita la non-retoratività fiscale per gli investimenti esteri che non avesse un limite così alto, sarebbe una forma intelligente per riattirare questi investimenti che noi, ricordiamoci, noi stiamo disinvestendo tutti. Il 52% delle aziende tedesche che sono da noi hanno detto che non investeranno più un euro. e non tanto anche probabilmente per la digitalizzazione, ma per il discorso burocratico. E questo è il discorso. Verona ha perso, per esempio, l'investimento dell'Ichecchia, il settore dei servizi, ma comunque qualche posto di lavoro lo faceva. L'arena che doveva, e questa è la vecchia gestione, che doveva raddoppiare il proprio stabilimento dei polli congelati, che pochi lo sanno, noi siamo leader in Europa, io non lo sapevo, ha aspettato due anni. Due anni? Devo dire, 150 persone che per due anni percepiscono lo stipendio e danno ricchezza, pagano tasse. E la burocrazia è uno dei veri tumori. Non ci vorrebbe poi tanto. Volevo sentire, Avesco, il presidente Marinese, presidente degli imprenditori veneziani, di Venezia, perché adesso è... Venezia e Rovigo. Venezia e Rovigo, il nazionale Matteo Zoppas, ha detto un minuto di silenzio in tutte le imprese per protestare contro la mancanza di interventi del governo. Forse se facessi un minuto di silenzio marinese sarebbe una cosa migliore. rispondo alla sua domanda, direttore, se si è d'accordo o se sono d'accordo. Certissimamente sì, perché gli imprenditori in questo momento hanno, l'abbiamo sentito prima, il vero problema. Io non parlo di tasse o di altre cose, io parlo della burocrazia, parlo di mancati permessi, che è sempre burocrazia, per ampliare un capannone, parlo di tutte le leggi e le gine che uno deve affrontare con costi enormi per sviluppare un capannone, per assumere una persona, per... Allora, sicuramente, per rispondere ancora alla sua domanda, in modo ancora più preciso, ci vorrebbe una protesta che mettesse in risalto, in evidenza, una situazione di pericolo. Cosa vuol dire pericolo? Pericolo vuol dire che le imprese si stanno stancando, avevamo avuto da 4 anni a questa parte un ritorno in patria, chiamiamolo così, nel nostro bel paese, di aziende che avevano delocalizzato. Quanto? Probabilmente i dati parlano del 19-20% di aziende che sono ritornate, che prima delocalizzavano per spendere meno, perché la manopera costava meno, eccetera, ma se noi facciamo un confronto, minore costo della manopera, ma minore spese di logistica, minore spese di trasporto, e tutto il resto, alla fine si pareggia, con un vantaggio di portare a casa nuovamente parte delle imprese o le imprese o parte delle persone che sono andate a lavorare fuori. Qual è il vantaggio? Che la capacità, questa non è teoria, questa è certezza metodologica, matematica, eccetera, che la capacità di fare qualità di prodotto come l'italiano non ce l'ha nessuno. A me piacciono i tedeschi, vabbè, io lo vedo così, a me piacciono i tedeschi, a me piacciono i francesi, io sono per l'Europa, però la capacità che ultimamente, da quattro anni di questa parte, all'italiano, di produrre, no, e di trasformare, ma no, materia prima che noi non abbiamo, e che quindi siamo ancora più bravi, in prodotto addirittura semilavorato che esportiamo, o prodotto finito, a grande capacità. Grazie a questa grande capacità, le aziende al 20% stanno tornando indietro. Burocrazia, questo è il freno, perché le capacità le avremo, il freno è la burocrazia, e non parlo di tasse, parlo di mancati servizi, parlo che se uno non paga, domani mattina, no, non credo che ci sia la possibilità di farsi pagare, perché sappiamo come funzionano la magistratura, o i tempi lunghi della magistratura. Questo per dire che cosa, e chiudo, per dire che l'Italia ha ancora una potenzialità notevole, non siamo certo alla fame, dobbiamo avere il coraggio, ed ecco la protesta non nascosta, non così pacata come il direttore diceva prima, Marinese, che parla di un minuto di silenzio, ma molto più spinta per svegliare non le coscienze che già ne abbiamo, per svegliare chi ci governa, a togliere che non sarebbe difficile parte di questi lazzi razzuoli, che si chiama burocrazia, che si chiamano tempi lunghi, che si chiamano costi, perché se io devo aspettare, ho sentito prima due anni, ma ricordava l'anno scorso il direttore qui presente che aveva aspettato nove anni per aprire o per rimodernare un capannone in Italia e ci ha messo nove mesi in un'altra parte del mondo che non dico a Chicago, ecco perfetto, non volevo dirlo, non volevo dirlo. Chiudo dicendo sì, direttore, una protesta ci vuole perché non vogliamo pagare meno, vogliamo avere burocrazia e spendere meno per questa burocrazia. Allora, tantissimi sms arrivano sui migranti e sulla questione Sea-Watch, io direi di sentire cosa dice la comandante della Sea-Watch, la nave dell'ONG che sta girando davanti a Lampedusa da giorni perché non può sbarcare a Lampedusa e non vuole tornare in Libia, quindi ci sono 43 migranti che sono a largo dell'isola, sentiamo cosa dice in inglese ma c'è la traduzione. Here in front of Lampedusa since Friday the 14th with now 43 rescued people on board. We rescued 53 on the 12th of June. Ten people have been disembarked by the Italian authorities for medical reasons. however the Interior Ministry of Italy has passed a new decree law forbidding us entry into territorial waters which is in contrast to the law of the sea. This way we cannot see any way forward how to disembark the remaining 43 people who are really getting more worried every day about their future and the possibility to disembark. on top of that of course we have the ship rolling in the seas every day we have issues with dehydration and hygienic concerns and we really need to disembark these people to a place of safety as soon as possible. Allora Paolo Durastante se fosse il Ministro degli Interni come si regolerebbe rispetto a questo? Salvini ha avuto un grande consenso proprio per la riduzione dei flussi per la chiusura dei porti perché ha detto chiaro e tondo qui non si approda più andate in altri in altri paesi per esempio qualcuno dice perché non vanno in Tunisia dove non ci sono dove non ci sono porti insicuri sono sicurissimi però lì la Tunisia comunque non li vuole e nessuno dice niente invece se se l'Italia si esprime per diciamo porre fine a questa a questo arrembaggio che dura da anni allora tutti contro l'Italia lei come la pensa ho visto che intanto in questi ultimi tempi si sono un po' ridotti gli arrivi che erano un po' piuttosto pesanti insomma anche perché poi mi sembra che la Sicilia era quello il approdo e io penso che dovrebbero capire anche i signori dell'Europa che un po' per uno non fa male a nessuno questa ormai non è un'immigrazione un'invasione e vederli così questi ragazzi perché poi sono tutti ragazzi abbastanza giovani io vado viaggio su Vicenza e mestre tutti i giorni me li vedo lì insomma mi fa anche un po' impressione a volte mi vorrei fermare per chiedere a loro ma tu che fai con sta bicicletta poi li vedo ogni tanto spacciare lungo nel campo marzo là che è davanti alla stazione e mi fa un po' impressione sinceramente una regola c'è bisogno e fa un po' la forza di Salvini un po' questo muso duro che ha deciso di mettere ma d'altra parte fare toppo al bunista e si è visto che cosa abbiamo prodotto insomma un'invasione vera e propria io non so non sono egoista non sono così razzista da poter capire anche perché ho lavorato in un'altra amministrazione ed ero molto vicina alle persone così marginate però mi fanno paura sinceramente così tanti e quindi una regola ci vuole non una regola un fermo proprio però io penso che non ce la farà tanto perché lo vedo molto molto attaccato da tutte le parti in ogni momento in ogni situazione invece che cercare una soluzione in comune si pensa di attaccarlo così pesantemente e ci sta rimettendo anche abbastanza con questi procedimenti con questa magistratura che poi l'avete visto ha sequestrato la nave poi l'ha ridata quindi non vorrei che anche questo fosse uno spiraglio che si apre e così arriveranno di nuovo e forse sarebbe bene anche aiutarli a casa loro ma in che modo questa è una politica che deve fare un po' l'Europa visto che siamo uniti tutti insieme appassionatamente dobbiamo anche trovare una soluzione uniti e tutti insieme certo che comunque per le nostre strade non so se voi io l'altra sera ho preso la strada ho preso la macchina sono andata in via Piave dove abito alla fine e santa pace mi sembrava di stare a Casablanca vedevo un gruppo di persone di colore che stavano dappertutto insomma cioè mi fa un po' mi fa un non dico paura perché insomma però ho un po' impressione sì mi sembra di stare in un'altra in un'altra città insomma sento parlare queste lingue così diverse i profumi anche diversi delle loro delle loro cuscine e sembra di perdere un po' quell'odore di cipolla sento più quelle spezie pesanti quindi ecco che posso dirle di più secondo me fa bene ecco punto va bene un'altra cipolla un'altra cipolla in un momento che abbiamo massimo riundi che mi remano che mi remano contro allora abbiamo Fabrizio cosa avevamo cosa avevamo si c'è una bella storia di carabinieri di alcuni uomini dell'arma anzi due uomini dell'arma che hanno salvato delle persone che stavano veramente rischiando di annegare poi li si chiama carabinieri eroi loro ovviamente si scherniscono non vogliono essere definiti così però tutti coloro che hanno assistito a questa impresa la ritengono un'azione memorabile vediamo c'è anche la testimonianza vediamo un pomeriggio lungo le rive del piave per combattere il caldo di questi giorni doveva essere l'occasione per trascorrere qualche ora in allegria tra giochi riposo e bagni ma si è trasformato in un incubo uno dei ragazzini del gruppo di amici un tredicenne decide di andare a fare il bagno in quel momento le acque del fiume sono basse e tranquille ma all'improvviso il livello si alza la corrente diventa più violenta e il bambino viene trascinato via la mamma non ci pensa su due volte si getta in acqua nel frattempo il figlio sospinto dall'acqua riesce ad uscire e a mettersi in salvo ma nello stesso momento altre due ragazzine controllando la situazione cadono in acqua sono stati presi anche loro dall'acqua una si è incastrata con la mano tra i sassi sono tornata indietro per fortuna ho visto la mano e l'ho staccata l'ho lasciata scivolare perché non potevi trascinarla la potenza dell'acqua era talmente grande intanto un anziano di fronte alla scena getta un asciugamano nell'acqua per fare in modo che Marinella vi sia grappi ma anche lui cade ma è stato guarda non so vivere quel momento la vedere tante persone che possono morire è stato veramente un incubo la situazione è drammatica ma sul posto arrivano due carabinieri due angeli veramente due eroi che non hanno guardato nemmeno cioè come spiegarmi non hanno pensato un attimo a loro stessi si sono buttati in acqua che era sempre più alta a salvare questa bambina e in seguito l'anziano non so come hanno fatto a uscire fuori perché veramente scenate da incubo vanno premiati questi ragazzi sono veramente dei eroi è difficile fare una roba che loro hanno fatto è difficile veramente a quest'ora potevamo essere morti tutti Marinella vorrebbe incontrare quelli che le chiama Angeli per ringraziarli ancora una volta grazie veramente ai carabinieri di Pederoba che ci hanno salvato servizio di Daniele Assizia se non ho sentito male vediamo un titolo su Corriere del Veneto e parleremo tra pochissimo dopo la pubblicità morì dopo aver rifiutato la chemio condannati a due anni i genitori era stata plagiata la madre dice lo rifarei questa bella ragazza che aveva deciso di non curarsi con la chemioterapia allora andiamo in pubblicità pochi minuti e poi ritorniamo e riprendiamo con i nostri ospiti e con i vostri sms tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti